Una cosa diversa, super diversa, cioè non sarà il seguito di strappare lungo i bordi, sarà un'altra storia come coi libri e in realtà la speranza mia è che sia qualcosa di molto diverso, nel senso che penso che la cosa peggiore che posso fare è fare la brutta copia di strappare lungo i bordi, quindi proviamo a fare una cosa completamente diversa, poi io spero sempre che vada bene, vediamo un po'.